Buongiorno, benvenuti a questa sessione plenaria riguardante infrastrutture e dati territoriali e Smart City. Introduco i lavori dando alcune informazioni di tipo logistico rispetto al programma, ci sono alcune variazioni in termini dei relatori ma non di contenuti. La dottoressa Filippi ha avuto un inconveniente non potrà essere qui questa mattina ma il suo intervento verrà sviluppato dal dottor Dominici. Così pure purtroppo non si è scusato, non ci sarà la presenza del dottor Baldacci però il dottor Patuno svilupperà il tema dei big data di Istat. Ci saranno in realtà anche degli interventi, adesso non entro nel dettaglio, li seguiremo, di altre persone, quindi di altre istituzioni che arricchiranno sicuramente il dibattito. Dal punto di vista logistico immaginiamo interventi di un quarto d'ora in modo da terminare nel tempo e avere anche lo spazio per eventuali integrazioni o domande o comunque richieste di partecipazione anche da parte dell'uditorio. Spendo solo due minuti prima di dare la parola al dottor Nicola Guarino che rappresenta stati generali dell'innovazione, l'associazione che insieme ad Asita ha organizzato appunto questo evento, questa iniziativa. Soffermando l'attenzione per dare spunto così alla discussione che seguirà rispetto al focus dei lavori. Da una parte abbiamo le infrastrutture e i dati territoriali, abbiamo aggiunto innovative, in che senso? Voglio solo sottolineare adesso con questa slide che il concetto è variato nel tempo e probabilmente varierà per tanti motivi. Qui ho riportato due riferimenti, uno recentissimo che suddivide i periodi già addirittura in tre generazioni, tre ere di DT focalizzate sul prodotto, quindi sui dati, più orientate ai servizi e adesso stiamo vivendo l'epoca del user driving che ben si sposa con il paradigma Smart City. Tra le tante definizioni che si trovano in letteratura che cos'è un'infrastruttura dei dati territoriali, ne ho pescata una che se vogliamo è già un po' adattata perché è 2009, ma è una di quelle definizioni che mette in evidenza proprio gli argomenti che tratteremo questa mattina. Nel senso che l'infrastruttura da una parte, l'infrastruttura dei dati territoriali da una parte deve, ha come obiettivi quelli di dare risposta alle funzioni fondamentali di un'infrastruttura, quindi la ricerca dell'informazione, la visualizzazione e la condivisione dell'informazione geografica. Questi sono gli obiettivi fondamentali, funzioni fondamentali. Ma associando all'infrastruttura e il concetto di processo, altri obiettivi più legati all'uso che ne possono fare gli utenti emergono e qui ne sono segnalati due. Ieri mattina nella sessione del CISIS è stato visualizzato questo schema. Se leggiamo una considerazione che sempre ho trovato in letteratura dai ricercatori dell'MIT sulle smart city, che pongono in evidenza quale è il ruolo, secondo loro, dell'informazione geografica, beh, quantomeno in termini di proposte architetturali funzionali anche in Italia, ci stiamo avvicinando qualcosa che appunto risponde all'osservazione di qui sopra. Con questo il mio intervento è terminato, farò moderatore, mi ritaglio il ruolo di controllore dei tempi per fare in modo che tutto si svolga regolarmente. Prima di passare alla parola al dottor Guarino, una, diciamo, una, sì, ho saltato questo, ma va bene, diciamo che sono due consigli di azione per arricchere i concetti, quali possono essere componenti di uno sviluppo armonioso di infrastrutture e dati territoriali. Da una parte il fatto che bisogna puntare molto sulla formazione e che parlando di abilitazione dei dati geografici intendiamo, intendono, con il concetto di spatial enablement, che i dati geografici vengono utilizzati per valorizzare qualsiasi altro tipo di informazione. Appunto ci ho detto, spendo proprio un minuto per ricordare che la prossima settimana a Roma si svolgerà il primo workshop di un'associazione che raccoglie gli operatori della filiera dei piccoli droni, questa nuova tecnologia per monitorare e altro, anche fare territorio, volevo segnalarla, avete riferimenti del sito, è un workshop di mezza giornata a Zitta, insieme a stati generali dell'innovazione, a MFM e GIS, hanno dato molto volentieri il patrocinio a questa iniziativa. Do quindi la parola al dottor Guarino. Buongiorno a tutti, anche a nome dell'associazione stati generali per l'innovazione, che è co-organizzatrice di questo evento. Che cos'è questa associazione? Sostanzialmente è un'associazione di associazioni, oltre che di persone singole e di singole aziende, che condividono la convinzione che l'opportunità di crescita per il nostro paese siano offerte dalla creatività, dal riconoscimento del merito, dall'abbattimento del digital divide e dal rinnovamento dello Stato attraverso un meccanismo di partecipazione, attraverso l'open government. Soprattutto il nome stesso stati generali, diciamo, esprime l'idea che questa innovazione del paese, questo processo di innovazione del paese, debba avvenire in modo partecipato, a partire da quelli che sono i soggetti, le persone, le aziende, le associazioni che fanno e se stesse l'innovazione, che sono direttamente coinvolte in questo processo e che hanno le competenze, l'entusiasmo e la voglia per partecipare. A questa associazione appartengono più di un centinaio di entità diverse, di associazioni diverse, do solo l'idea qua dei loghi. Che cosa abbiamo fatto nel 2013? Alla fine del 2012 abbiamo lanciato, nell'imminenza delle nuove elezioni, abbiamo stipulato una carta di intenti per l'innovazione, articolate in dieci punti, che comunque si concentrano su quattro cose, la sostenibilità, l'apertura come modalità di partecipazione, la centralità del territorio e l'inclusività. Questa carta è stata sottoscritta da un certo numero di candidati che poi hanno preso degli impegni, candidati di vari schieramenti politici e adesso siamo qua a tallonarli per capire un attimo quanto questi impegni poi vengono concretizzati. Un'altra attività è stato il coordinamento dell'Open Data Day italiano. C'è una consulta permanente dell'innovazione che mette insieme un gruppo di lavoro di persone che si impegnano in questo senso. C'è un'associazione di donne, non ricordo bene Wister, non ricordo la sigla qual è. C'è un manifesto per la trasparenza delle ONG e c'è anche l'associazione partecipa in quanto soggetto italiano al tavolo per l'Open Government Partnership internazionale. Abbiamo contribuito alla definizione dell'agenda per la città smart nella città di Roma e una cosa analoga si è svolta in collaborazione con la regione Umbria. Recentemente abbiamo supportato l'iniziativa dell'Innovation Festival della provincia di Bolzano e della comune di Napoli. Questo dà un'idea più o meno del tipo di attività svolte. Lasciatemi adesso cambiare cappello in quanto io oltre che far parte dell'associazione stati generali dell'innovazione lavoro al Consiglio Nazionale delle Ricerche, all'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione e in particolare dirigo un laboratorio che sta a Trento che si occupa di ontologia applicata. Diciamo che il sottoscritto è uno dei responsabili del fatto che adesso questa parola ontologia ha preso un certo piede e come si inserisce questo nei discorsi che faremo oggi eccetera. Lo stesso approccio dei stati generali per l'innovazione passa per la governance partecipata. La openness non è solo in senso passivo ma deve essere anche in senso attivo, non solo opportunità di accedere ai dati ma opportunità di partecipare alla gestione comune attraverso i dati. Per questo è necessario che ovviamente è necessario la trasparenza non solo dei dati ma dei contesti organizzativi e normativi, dei processi decisionali che stanno dietro alla produzione di questi dati. Quindi gli open data di cui parliamo oggi sono il primo passo verso questa nozione ampia di trasparenza. È necessario oltre ad avere dei dati condivisi è necessario condividerne il significato e quindi un'ontologia condivisa della pubblica amministrazione è il passo successivo. Qui saranno presenti i vari relatori di vari enti che si occupano un po' di standardizzare alcune cose, c'è l'ISTAT, c'è l'ANCI, ci sono vari soggetti che sono coinvolti in questa cosa ma sicuramente un approccio condiviso alla semantica è ancora lontano. Diciamo così, si parla di questi, adesso una parola di moda è quella dei big data, si insiste su questa parola data, 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 siamo pieni di dati. Diciamo, parafrasando Kant, consentitemi di dire che i dati senza concetti, cioè senza contenuto, sono ciechi così come d'altra parte i concetti senza dati sono vuoti. Questo era il buon Kant che lo diceva. Concretamente andando a vedere come si può lavorare per una ontologia condivisa della pubblica amministrazione, sicuramente tanto per cominciare per la prima volta questa cosa è esplicitamente inserita nell'agenda del governo. Ci sono dei primi passi svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale che ha recentemente pubblicato delle prime linee guida per l'uso degli open data, recependo alcune delle indicazioni del decreto del fare. Sicuramente quello che è necessario ancora è un grosso lavoro di disambiguazione, di standardizzazione terminologica e perché non basta semplicemente riutilizzare alcune ontologie di uso comune tipo friend over friend o cose varie perché nella pubblica amministrazione soprattutto è importante rendersi conto delle implicazioni normative e legali dei termini che si utilizzano. Per questo è necessario un approccio fortemente interdisciplinare con un'attenzione agli aspetti normativi e non solo. È necessario rigore, è necessario soprattutto umiltà, in particolare da parte sia per esempio di chi si occupa solo dei dati e pensa che, diciamo, l'umiltà è il presupposto per confrontarsi con altri soggetti che la pensano diversamente. I nostri colleghi informatici molto spesso non hanno questo atteggiamento, mi risulta. Ok, con questo chiudo e adesso Sergio darà la parola ai vari relatori. Bene, grazie Nicola. Allora, i primi due interventi sono sviluppati da Gianni Dominici, direttore generale di Forum PIA. Lo invito Gianni a prendere posizione. Sì, grazie. Non intendo sviluppare due interventi l'uno dietro l'altro. Esatto, esatto. Sarebbe pesante per me e per voi. Cerco di riportarvi due esperienze che sono quella di Forum PIA, Forum PIA che è l'azienda che io dirigo e che si occupa di, ormai da tantissimi anni, aspettate che stavo cercando di mettermi il timer, che si occupa di, alla presunzione, alla supponenza, a volte alla delusione di cercare di portare innovazione e alla pubblica amministrazione, e l'esperienza che stiamo facendo con l'ANCI sull'osservatorio Smart Cities dell'ANCI. Quindi due esperienze, una di natura più qualitativa che l'osservatorio e una più quantitativa che il lavoro che stiamo portando avanti come Forum PIA. Ovviamente noi partiamo da un problema più generale, che non è quello più specialistico dell'Italia. Noi partiamo da un problema generale, che è quello che attualmente la pubblica amministrazione si trova ad affrontare dei problemi che mettono in discussione, non l'attuale congiuntura, ma i modelli fino ad oggi utilizzati. In questo momento non si tratta di passare la nottata sperando che poi, fra qualche anno, riavremo una pubblica amministrazione in grado di far fronte alla complessità dei problemi. La logica è proprio che la pubblica amministrazione, così come la conosciamo fino ad oggi, che è una pubblica amministrazione bipolare, quella che dice io sono pubblica amministrazione, tu sei cittadino, sei paziente, sei utente, è una pubblica amministrazione che non è più in grado di risolvere la complessità dei problemi sociali. Dobbiamo andare ad incontro a una pubblica amministrazione che ascolta il territorio, che ascolta i cittadini, che considera appunto gli attori locali dei partner. C'è un bel libro che io cito sempre, quello di Eggers, anche tradotto in italiano, che si intitola Governare con la rete. Appunto bisogna abbandonare la logica per cui da una parte c'è la pubblica amministrazione e dall'altra parte il territorio e invece bisogna imparare a governare la rete. Perché non accaduto la scorsa edizione di Forum Piala era intitolata Quale PA per quale paese? Cioè cercare proprio di capire appunto nuovi modelli di intervento. Perché in questo contesto mettiamo al centro le città e parliamo di Smart Cities? Perché come diceva... No, dopo come diceva. Perché? Perché più in tutto la dimensione urbana è quella dove si concentrano in più i problemi. E' noto, gran parte dei problemi che noi ci troviamo a affrontare si concentrano nella dimensione urbana. Ma è proprio nella dimensione urbana che esistono anche le opportunità per risolvere questi problemi. Esiste conoscenza, competenze, di ricerca ed altro. Come diceva l'ex sindaco a questo punto di New York dall'altro ieri, lui diceva, noi siamo il livello di governo, noi sindaci, noi città, siamo il livello di governo più vicino alla maggioranza della popolazione mondiale. La maggioranza della popolazione mondiale risiede nelle città. E quindi le città sono le istituzioni più vicine ai cittadini. E lui aggiungeva, mentre le nazioni spesso parlano di grandi progetti, grandi strategie, invece noi che ci dobbiamo di fronte alle realtà agiamo. Quindi la città è, nel momento in cui noi parliamo di nuove forme di governo, la città è il livello istituzionale migliore per provare un nuovo rapporto tra cittadini e istituzioni. In più le città stanno diventando in termini di informazioni sempre più nodi attivi di informazione e comunicazione. Tanto più lo sappiamo anche attraverso le nuove tecnologie, la fruizione stessa della città ormai è un insieme continuo tra luoghi fisici e flussi informativi. Quindi, tanto più appunto che vale sempre di più il nuovo modo di dire che le nuove forme di esclusione non è semplicemente tra chi ha e chi non ha, ma chi ha accesso e chi non ha accesso all'informazione. Se quindi, questi sono i motivi per cui ci focalizziamo sulle città, le stesse città si possono proprio qualificare nel modo in cui gestiscono, producono e raccolgono l'informazione per produrre innovazione. Vediamo il lavoro che abbiamo fatto fino adesso. Come vi dicevo, il primo lavoro è questo fatto con l'Anci sull'osservatorio Smastidis. L'Anci è nota, è un organismo istituzionale, ci ha chiesto una mano, per questo sull'home page del sito sotto c'è scritto iniziativa Anci in partnership con Forum PA, ci ha chiesto una mano a sostenere il lavoro dell'osservatorio. Qual è l'obiettivo? Prima di tutto fare rete, mettere insieme le diverse competenze distribuite in diversi territori. Secondo fare anche un po' di grounding di terreno comune. Noi a Smastidis Exhibition che abbiamo organizzato a Bologna lo scorso mese abbiamo presentato quello che è chiamato il Vatemecum per le Smastidis, un documento di lavoro che abbiamo elaborato insieme alle città stesse che diventa un documento di indirizzo su come muoversi all'interno delle città. L'altra cosa che sta cercando di fare l'osservatorio è quello di fare awareness building, sensibilizzazione, cercare di portare all'interno delle città la cultura della gestione dell'innovazione e dell'informazione. Abbiamo fatto una serie di incontri di natura seminariale, abbiamo fatto una serie di webinars, abbiamo avviato dei laboratori di approfondimento. Insieme alle città stiamo cercando, mettendo insieme le diverse esperienze, di approfondire una serie di tematiche. In più, dal prossimo mese cominceremo con quattro città una sperimentazione di applicazioni del Vatemecum. Quindi l'osservatorio ha come obiettivo principale quello di fare rete, fare diverse realtà. in questo momento cambia in continuazione, perché ovviamente ci sono nuove adesioni, ma mi sembra che siamo a 58-59 adesioni di città italiane, fare cultura sulle smart cities, fare cultura appunto del tema dominante, cioè quella della ricerca di un nuovo modello di intervenire sul territorio, un nuovo modello che valorizza l'informazione. Questi sono un po' di dati che vengono dai nostri associati, se così li possiamo chiamare. Per esempio questi sono, ovviamente l'universo non sono i comuni italiani, c'è gli 8.000 oltre, l'universo sono i 60-58 che vi dicevo prima aderenti all'osservatorio. Abbiamo chiesto a loro come si stanno muovendo. Ad esempio tra i nostri associati, l'82% ha avviato proposte e azioni concrete di finanziamento sul tema smart cities, l'82%. Il 5% ci ha risposto no perché non abbiamo le competenze interne e il 13% ci dice che non hanno avuto i requisiti di ammissibilità per aggiungere i finanziamenti sul tema delle smart cities. Circa la metà delle città coinvolti si dice che hanno avviato partnership pubblico-privato per lavorare sul tema delle smart cities. Quando dicevo prima il governo della rete, il governo della rete significa anche nuove forme di collaborazione che ho già anticipato tra istituzioni locali e attori locali. Il fondamentale è pensare anche a nuove forme di collaborazione tra pubblico e privato. La metà delle nostre città ha avviato esperienze di questo tipo. Se questo era il lavoro qualitativo che stiamo portando avanti, il nostro obiettivo è avviare la sperimentazione e arrivare a Forum PA 2014. Forum PA 2014 come sempre si tiene di maggio, quindi è l'ultima settimana di maggio del prossimo anno. Arrivare a Forum PA con due prodotti. Uno, la sperimentazione nelle quattro città che vi dicevo. parte fra un mese e noi fino a maggio portiamo avanti questo laboratorio di applicazione del VATEMEGUM. L'altra cosa che stiamo avviando e che concluderemo a maggio prossimo è questa degli laboratori di apprendimento, quindi creare delle opportunità di confronto e di approfondimento con le città. Contestualmente a questo lavoro qualitativo, noi abbiamo lavorato a romanzo due anni su un ragionamento di natura più quantitativa. Lo dicevo all'inizio, la città smart è la città che considera l'informazione una risorsa, è la città che ascolta il territorio in termini di bisogni, in termini di problemi, in termini di aspettative, in termini di asset territoriali. La sperimentazione che stiamo facendo la stiamo facendo attraverso questo indicatore che in verità è uno strumento. Noi sulla base di quello che vi dicevo appunto consideriamo indispensabile la conoscenza del contesto territoriale, quindi le dinamiche economiche e sociali che ci sono alla base. E sulla base di questo, dicevo, si dirette è un strumento che noi abbiamo messo a disposizione delle città, amministratori, imprese, cittadini, associazioni che siano, proprio interessate a meglio capire le dinamiche territoriali. Quindi sostanzialmente AECD-Rate è uno strumento di lavoro. Si presenta in questo modo, cioè una raccolta di 110 indicatori messi su un portale da noi sviluppato. Questa tecnologia è usata per esempio dall'ISTAT, per il suo indicatore il BES, usata dall'INPS. Nel caso specifico, la nostra invece la usiamo appunto per indicatori di Smart Cities. Abbiamo messo su 110 indicatori che ogni anno aggiorniamo e è accessibile questo cruscotto. Non è un semplice strumento di data visualizzazione, è un strumento, come vi dicevo, di lavoro. Poi lo vedremo adesso con qualche esempio. Ovviamente se potessi navigare, ma non bisogna utilizzare il palo. Qui a sinistra vedete il menu con tutti gli indicatori di EECD-R. Sono attorno qui, era semplicemente per... Mi portano il microfono. Grazie, grazie. Allora dicevo, questo è il portale così come si presenta. Qui ci sono gli indicatori. Ovviamente man mano che clicchiamo e scendiamo gli indicatori che vediamo un'Italia che si distribuisce in questo modo. E qui ci sono le funzioni avanzate o di base. Adesso lo vedremo con qualche esempio. Per questo lo chiamo uno strumento a disposizione degli operatori. Le funzioni che noi mettiamo a disposizione sono funzioni che permettono il benchmarking, il check up delle diverse realtà territoriali e la produzione di report specifici. Noi nella revisione dell'indice di quest'anno abbiamo messo su un gruppo di lavori informali, ci mancherebbe altro, dove però abbiamo coinvolto sia l'ISTAT nelle sue due dimensioni che si occupano di Smart Cities, quindi che fanno capo a due ripartimenti. Abbiamo coinvolto l'Union Camere perché siamo convinti che nel momento in cui parliamo di Smart Cities è fondamentale che parliamo di nuovi diritti di cittadinanza. Anche le imprese dovrebbero avere una nuova cittadinanza all'interno del Smart Cities. Quindi abbiamo coinvolto l'Union Camere, abbiamo coinvolto Anci e poi abbiamo coinvolto una serie di associazioni che si occupano dei temi di cittadinanza attiva. In particolare abbiamo lavorato con Open Policy Action Aid. Quindi abbiamo confrontato il nostro lavoro tramite un tavolo di confronto con singole istituzioni che si occupano ovviamente di temi a noi importanti. Qual è il risultato principale del lavoro di quest'anno? Prima di tutto che la crisi si fa sentire nelle città con impatti concreti sui livelli di occupazione e sulla qualità dei servizi. Se noi confrontiamo l'indice di quest'anno con l'indice dello scorso anno in termini complessivi vediamo proprio che sui termini della qualità della vita siamo scesi rispetto allo scorso anno. Quello che sta migliorando e questo è di buon auspicio anche rispetto alle premesse che ho fatto sono che invece migliorano i valori relativi al capitale sociale e quelli relativi alla governance. Cioè la crisi sta creando nuovi modi di operare all'interno della città e anche nuovi valori all'interno della città. Se non ci sono le risorse per continuare a mantenere la qualità dei servizi comunque ci sono delle azioni che la crisi ci spinge ad adottare per appunto un miglior convolgimento come vi dicevo del capitale sociale e degli attori locali. Questo si nota a livello complessivo. L'indice è costruito sulla base di questi sei assi sei rami principali sono la smart mobility dove abbiamo introdotto otti indicatori smart environment quindi ambiente sette indicatori la governance 17 indicatori la qualità della vita 20 e smart people che sta per capitale sociale quindi per diciamo la qualità del capitale sociale sono sono circa 18 indicatori. Questi indicatori vengono ovviamente adesso non parlando che li leggiate comunque sul portale sono a disposizione ma solo per farvi capire l'impianto complessivo ognuno di questi appunto sviluppa poi alcuni che sono ulteriori indicatori o indici sintetici per ciascuna dimensione individuata. Cosa è successo quest'anno in termini di rating? Lo vedete io l'ho presentato come strumento ma è evidente che la cosa più normale che accade è che io partendo dall'indicatore sintetico faccio questo cioè vado a vedere le differenze tra le diverse città la dimensione economica sostanzialmente vediamo una situazione abbastanza stabile a livello complessivo però con appunto delle new entry in questo momento sono le città medie dimensioni che riescono ad avere delle performance migliori rispetto alle altre e quelle che noi quando io stavo al census chiamavamo le piccole capitali le città di medie dimensioni hanno la capacità di meglio reagire delle grandi metropoli questo è la la colonna a sinistra la classifica di quest'anno e la colonna a destra la classifica dello scorso anno vedete dei piccoli rivolgimenti al vertice e poi questi due new entry se questi dati noi li usiamo però appunto come per meglio capire ad esempio possiamo utilizzare lo strumento che vi dicevo prima che è lo strumento check up io in questo caso ho preso mi sembra che fosse a Padova e quindi attraverso il strumento check up ho selezionato Padova e sono andato a vedere rispetto alla media degli indicatori come si posiziona a Padova su tutti gli indicatori economici ora ovviamente questo è uno screenshot che non mi permette di fare lo scroll ma rispetto in questo caso all'area tematica economia io sono andato a vedere a fare il check up di Padova andando a vedere nell'immediato come si posiziona rispetto alla media vedete che in termini di certificazione ambientale ISO è inferiore alla media vedete che in termini di qualità dell'università è superiore e così via questo strumento check up lo posso fare ovviamente per qualsiasi città che mi interessa e per qualsiasi dimensione area tematica che mi interessa andiamo a vedere la dimensione ambientale 15 minuti dimensione ambientale questo è il risultato di quest'anno Trento era prima rimane prima Vincenzo scusa Maurizio abbiamo questi due new entry che sono Sandro e Bolzano nella classifica di testa in questo caso lo strumento che posso utilizzare tra i tanti non so se si vede bene è lo strumento benchmarking io qui ho confrontato ovviamente posso scegliere quello che voglio sia in termini di territorio che di indicatori ho messo in confronto Bolzano con Sondro e immediatamente il sistema mi propone questa lettura con un grafico a radar andando a vedere ad esempio che Sondro è più alto degli altri e lo specifico di Bolzano rispetto alla disponibilità di verde urbano quindi questo è l'altro strumento immediato che ho il tema della governance è la stessa logica di quella che vi dicevo prima in questo caso il new entry è Ferrara che da decima è arrivata al sesto posto per le altre non ci sono grandi differenze anche qua ho usato lo strumento benchmarking confrontando Ferrara con Torino vedete le diverse peculiarità delle due città rispetto a questo tipo di indicatori la dimensione living questo è il risultato con Mantua che è andata leggermente avanti questa è la mobilità e questa è la dimensione people con un salto di corizza che dal quindicesimo posto arriva al quinto posto quest'anno questi erano gli indicatori tematici la classifica generale è questa Trento dal terzo posto quest'anno è diventata la prima città in Italia secondo il nostro indice poi abbiamo Bologna Milano Ravenna Parma e Padova che fa questo salto in avanti che abbiamo già visto rispetto agli indicatori la cosa interessante sempre in termini di ragionamento complessivo è prima di tutto questo se vado ad isolare le aree metropolitane ho questo risultato e cioè che le aree metropolitane Bologna Milano Firenze Torino Venezia stanno fra le prime dieci inseguono anche Genova che è in posizione dodicesima il problema principale prima di tutto è questo una città come Roma che si pone al 23esimo posto e quest'altro c'è le tre aree metropolitane del sud che sono particolarmente isolate anche in termini di punteggio vedete che Bologna a 504 punti le città del sud hanno alcune quasi appena una metà si vede ancora di più se facciamo ancora meglio se vediamo questo cioè isolando le città del sud la prima è Cagliari ma la prima tra le città del sud è la 47esima in posizione assoluta la seconda è Lecce e la terza è Bari è evidente che questo risultato mette in evidenza una delle maggiori problematicità in questo momento quando parliamo di innovazione in Italia cioè che anche il tema delle smart cities è un tema che rischia di restituirsi un'Italia a più velocità un'Italia fatta di occasioni perdute e occasioni mancate perché perché il momento in cui diciamo che l'informazione introduciamo nuovi elementi nel vautare le performance un sistema urbano che non sono solo quelli economici ma anche quelli del capitale sociale eccessiva normalmente metto solo la vibrazione invece mi ha detto proprio che smettila quindi mi sbrigo che sono al diciannovesimo minuto le città del sud dicevo si crea un'Italia a più velocità quindi l'obiettivo dell'obiettivo del nostro cruscotto è anche questo cioè far vedere come in effetti e avere uno strumento a disposizione che segua in questo momento le attuali le dinamiche ed è questo questo è il risultato quindi ce l'ho fatta per 10 secondi però mi ha fregato questa è l'ultima diapositiva dicevo questa è l'Italia che ci restituisce il nostro lavoro quindi un'Italia ahimè che riconosciamo in termini di densità di colori ovviamente i valori più densi di rosso scuro sono quelli dove appunto le performance sono migliori quello che ci spieghiamo è che soprattutto parlando di nuova programmazione sapete che ormai già si parla della programmazione 14-20 parliamo di 30 miliardi destinati all'Italia che raddopperanno quindi fondi nazionali 60 miliardi questi 60 miliardi 5 sono destinati il 5% alle aree urbane che non si è davvero l'ulteriore occasione per dura cioè dobbiamo arrivare al 2014 ad accedere a questi finanziamenti con dei progetti di città che sono dei progetti credibili lo sapete l'attuale programmazione fa sì che siamo all'80% del tempo l'orologio scade nel 2014 siamo all'80% del periodo utile per usare i fondi e ad oggi mediamente abbiamo usato il 40% dei fondi con alcune regioni che hanno speso il 20% e altre regioni che hanno speso di più cioè i problemi ci sono abbiamo bisogno di immaginarci a nuove forme di sviluppo nuovi rapporti tra pubblica amministrazione e territorio la cosa fondamentale è che arriviamo attivandoci al più presto perché è evidente che siamo già in ritardo a condividere ai diversi livelli un progetto paese un progetto città che ci permetta di cogliere l'opportunità che ci abbiamo davanti grazie grazie mille della presentazione abbiamo visto come questo strumento questo portale riesce a darci un'idea molto interessante di qual è la situazione il problema ovviamente è come governare quali sono gli strumenti non solo per capire com'è la situazione ma per effettivamente cambiare e progredire forse alcune delle presentazioni che seguiranno vanno anche in questa direzione bene invito per la presentazione di EULF il progetto del programma ISA che è focalizzato sullo sviluppo di una framework di location data il dottor Francesco Pignatelli del JRC prego grazie grazie chairman grazie Sergio per l'invito oggi il JRC è qui della commissione europea per dare una panoramica un overview su questo progetto questo studio che ha come obiettivo quello di estendere diciamo l'esperienza ISPAIR l'approccio anche ad altri settori che non siano solo quello ambientale e quindi in questo caso in particolare in che modo l'informazione geografica e in particolare la location può essere utile per per l'e-government e per i servizi di e-government e in particolare in questo caso per questa sessione neanche quanto è rilevante per il discorso sulle smart city allora quindi un attimo darò un overview sulle smart city e la location e la rilevanza l'inspire e l'interoperabilità come questo programma ULF fa parte del programma più generale della commissione europea AISA una breve descrizione delle priorità e poi un primo risultato preliminare del questionario che abbiamo fatto ai vari stati membri sull'uso e sull'integrazione dell'informazione territoriale nei servizi di e-government e poi concluderò cercando anche di stimolare la vostra diciamo partecipazione anche per il futuro di questo di questo progetto allora la visione della città del futuro come abbiamo visto più volte anche negli interventi che mi hanno preceduto e anche quelli della sessione precedente e la città del futuro richiede che sia intelligente e sostenibile con servizi pubblici integrati che possano creare a loro volta nuove opportunità di crescita tramite la messa a disposizione di informazioni del settore pubblico quindi la sostenibilità in termini di gestione delle risorse del territorio come l'acqua energia rifiuti e altro requisito fondamentale per minimizzare l'impatto ambientale le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono sempre più pervasive nella nostra quotidianità e questo significa che il lavoro di una città intelligente deve essere svolto da sensori device intelligenti e sistemi di metering automatici come abbiamo anche visto e più volte detto questo l'ICT dovrebbe essere considerato non come un fine ma come un mezzo diciamo per raggiungere determinati obiettivi quindi ritroviamo qui un esempio di aree e applicazioni dove la localizzazione cioè l'informazione geografica può essere rilevante per una smart city nell'ambito del settore dei trasporti per esempio ci sono sensori per gestire in maniera efficiente i bisogni di chi si muove in una città come attraverso dei sistemi di trasporto intelligenti l'utilizzo di informazioni sul traffico sulla previsione di mezzi di trasporto pubblici e la disponibilità di parcheggi in ambito ambiente con il monitoraggio della raccolta tracciamento di rifiuti amministrazione dell'inquinamento urbano atmosferico acustico eccetera poi in ambito energia e acqua monitoraggio del consumo complessivo di energia elettricità gas e risorse idriche anche la gestione degli edifici è importante come abbiamo anche visto con smart metri in situazione del consumo di energia elettrica gas e acqua e poi anche per quanto riguarda la sicurezza dei luoghi sensori di videosorveglianza sistemi di previsione e prevenzione del rischio allora tutte queste applicazioni e questi sensori chiaramente uno degli aspetti fondamentali è l'interoperabilità e questi sono considerati fattori portanti i pilastri portanti fondamentali per avere dati realmente interoperabili soprattutto dal punto di vista semantico e strutturale questo significa che i dati devono essere armonizzati secondo schemi concettuali definiti e fare riferimento a vocaboli armonizzati e multilingua e a registri comuni ora un primo passo per diciamo verso l'interoperabilità può essere considerata la direttiva INSPIRE la direttiva europea che propone la creazione di un'infrastruttura europea per la condivisione e l'armonizzazione dei dati spaziali con focus nelle aree tematiche ambientali ora l'idea di questo studio di European Union Location Framework è quello di costruire un ponte per utilizzare ed estendere l'esperienza di INSPIRE nel campo dei dati territoriali legato all'ambiente ad altre numerose aree di interesse che fanno uso di informazioni geografiche questo è l'elenco come tutti sappiamo dei 34 temi di INSPIRE che coprono un ampio aspetto di domini tematici per i dati geografici ho sottolineato in grassetto quelli che sono più rilevanti e significativi per un discorso di sbazziti come vedete c'è una grossa diciamo percentuale volevo un attimo soffermarmi per quanto riguarda INSPIRE sulla differenza tra gli implementing rules cioè i regolamenti e le technical guidelines che sono le linee guida un regolamento è un atto legislativo vincolante si tratta di un atto giuridico diretto agli stati membri deve essere applicato in tutti i suoi elementi dell'intera unione europea invece le technical guidelines definiscono il come cioè implementare i dati armonizzati mentre il contenuto cioè il cosa è indicato direttamente al regolamento per esempio se si prevede che INSPIRE sia usato l'encoding GML è un esempio ora quindi abbiamo gli obblighi per quanto riguarda INSPIRE i regolamenti sono binding sono obbligatori definiscono come abbiamo detto ogni pubblica amministrazione deve mettere a disposizione quindi metadati almeno un catalogo nazionale servizi di visualizzazione e download e i dati geografici armonizzati in Italia è stato implementato il repertorio nazionale di dati territoriali quale catalogo di metadati relativi ai dati e servizi istituto con l'articolo 59 del codice dell'amministratore di amministrazione digitale un accenno sulla roadmap di INSPIRE i stati membri dovrebbero rispettare le milestone indicate come vediamo nel novembre 2012 per l'annex1 le pubbliche amministrazioni dovevano già mettere a disposizione i primi dati i primi set di dati armonizzati e per la fine del 2015 ottobre dovrebbero mettere a disposizione gli altri temi quelli gli annex 2 e 3 una particolare raccomandazione va data ai dati geografichi di nuova produzione che devono rispettare le implementing rules e ad oggi non sempre diciamo si verifica questo vorrei dirlo e una maggiore elasticità invece viene prevista per i dati pregressi come si vede c'è una differenza tra il verde chiaro e il verde più scuro un esempio per esempio in futuro i dati di censimento che sono particolarmente rilevanti per le comunità intelligenti dovrebbero essere allineati con le specifiche di INSPIRE ora fatto questa diciamo questa questa premessa su cosa INSPIRE prevede per gli stati membri che ho potuto solo fare un richiamo l'ULF si inserisce in questo programma della commissione europea che si chiama Interoperability Solution for European Public Administration ed è finalizzata ad oggi volare le amministrazioni pubbliche in tutta Europa a collaborare a diminuire le barriere del digital divide ottimizzare le risorse attraverso infrastrutture e servizi comuni e promozione e condivisione nel riuso di dati e delle soluzioni software in effetti l'obiettivo è quello di facilitare cross border e cross sector scambio di informazioni per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni il centro comune di ricerca il GRC della commissione europea è responsabile e coordinatore di due di queste azioni di questo programma uno si chiama ARENA Reusable Inspire Reference Platform che è indirizzato allo sviluppo di componenti per l'efficace implementazione di un'infrastruttura di dati reali in linea con i requisiti di Inspire quindi è più un tool diciamo mentre ULF ha lo scopo di fornire a lungo termine un quadro strategico che possa enfatizzare l'allineamento a livello politico per le applicazioni di government e che tenga conto della componente spaziale per quanto riguarda ULF abbiamo cinque priorità che abbiamo focus area che abbiamo individuato uno la prima è l'allineamento di politiche e strategie un approccio legislativo e politico coerente a livello europeo e nazionale abbiamo abbiamo l'integrazione diciamo della componente spaziale nell'e-government per agevolare i servizi è un elemento chiave un'altra area è la standard e interoperabilità che l'obiettivo è quello di creare delle linee guida per standard e tecnologie per l'interoperabilità e l'utilizzo dei dati poi chiaramente bisognerà fare una valutazione dei costi benefici valutazione di impatto per use case che andranno poi definiti e chiaramente tutta questa attività va fatta in collaborazione con altri partner che hanno già iniziative analoghe in corso o progetti e quindi i nostri obiettivi andranno condivisi e si cercherà di migliorare anche le sinergie tra i vari attori coinvolti un primo documento che è stato da poco emesso è stato elaborato è la visione strategica di ULF che definisce quello che diciamo gli obiettivi dei prossimi anni per questo studio identifica i maggiori stakeholder nell'ambito del programma e progetti europei ad essi collegati questo documento è stato discusso in un recente workshop che c'è stato a Copenhagen dove rappresentanti dell'e-government e di Inspire si sono incontrati per la prima volta come gruppo di lavoro e diciamo l'intenzione è quella di avere feedback e commenti anche per il futuro per i futuri deliverables di questo studio come vediamo qui lo studio ad oggi dovrebbe completarsi nel 2014 verso la metà però perché diciamo le ambizioni sono abbastanza elevate che non erano così diciamo all'inizio abbiamo che ha già chiesto un'estensione fino alla fine del 2015 2015 e l'obiettivo è quello di avere più versioni del vision document che verrà man mano aggiornato a fine anno ci sarà un primo diciamo importante report che terrà conto anche del questionario del survey che abbiamo fatto che si chiamerà Assessment of the Condition for the ULF e poi avremo il blueprint che sarà una serie di documenti faremo una public consultation ad un certo punto e ci sarà a fine 2015 una roadmap nella quale pensiamo anche di definire un po' quali sono i passi da fare in futuro dopo il 2015 in termini di user needs user di training di governance e così via se questo framework verrà in qualche modo portato avanti implementato chiaramente come dicevo ci sono una serie di siamo di partner che sono coinvolti e che stiamo diciamo man mano diciamo contattando contattando cercando di capire le sinergie e gli input che possiamo dare reciprocamente adesso adesso vorrei fare un accenno velocissimo sui primi risultati che abbiamo avuto sul survey che riguardava l'uso e l'integrazione dell'informazione territoriale negli servizi di government e che è stato fatto diciamo inviato alle pubbliche amministrazioni dei vari stati membri abbiamo definito quali possono essere i benefici e quali sono le best practice le iniziative dei vari stati membri poiché diciamo il survey è stato inviato un mese fa abbiamo diciamo fatto una fotografia al 24 ottobre e fino ad allora insomma 23 paesi comunque hanno già risposto e abbiamo avuto diciamo questa è un po' i risultati abbiamo fatto una serie di domande specifiche e quindi abbiamo capito quali erano le percentuali di buona integrazione parziale o diciamo nessuna integrazione in vari settori e diciamo che l'utilizzo per quanto riguarda i processi e i servizi velocemente l'integrazione forte risulta per la registrazione delle proprietà immobiliari per l'inificazione territoriale gestione degli indirizzi pianificazioni di trasporti parziale per quanto riguarda i permissi ambientali e pianificazione territoriale è assente o praticamente assente per l'anagri per i cittadini e le aziende quindi diciamo che c'è poca integrazione dell'informazione geografica in processi legati ai servizi amministrativi di base però si registra qualche buona pratica best practice in alcuni paesi membri come anche esistono applicazioni innovative cross border per quanto riguarda i benefici possiamo dire che per le pubbliche amministrazioni il beneficio nell'avere un'informazione geografica integrata nei servizi di government sono relativi a una maggiore collaborazione e coordinamento risparmio tempo e costi e semplificazione dei processi per quanto riguarda il cittadino potrebbe chiaramente avere servizi più efficaci risparmio di tempo e costi e nuovi prodotti per la società in genere avremo una PA più aperta e trasparente maggiore partecipazione e impegno dei cittadini per quanto riguarda diciamo valutazioni di benefici di un'integrazione geografica informazione geografica integrata negli government abbiamo delle diciamo delle valuzioni fatte in ambito Inspire in passato e adesso ci sono nuovi progetti comunque che ne stanno tenendo conto come Inspire Envy Plus e l'European Location Framework anche brevemente l'integrazione con i government è importante a livello strategico organizzativo e per quanto riguarda la politica di accesso ai dati diciamo che ci sono buone pratiche che sono state dimostrate dalle risultate del survey per quanto riguarda alcuni stati membri come Germania Danimarco Landa Gran Bretagna dove la messa a disposizione dei dati ha favorito e ha creato dei benefici anche quantificabili in maniera abbastanza precisa ora cosa potremmo dire per quanto riguarda questo studio e in particolare il contesto italiano come si lega ULF diciamo che attraverso il lavoro realmente congiunto secondo me dell'Agenzia per l'Italia digitale da una parte i government e il ministerio dell'ambiente all'altro per quanto riguarda l'inspire questo significa anche che su scala nazionale è necessario definire le polisi gli strumenti specifichi per avere dati di location che siano interoperabili sia da un punto di vista semantico che tecnologico partono da quanto previsto in inspire e garantiscono secondo me una interoperabilità sia verticale cioè dai comuni alle regioni agli enti nazionali che orizzontale per essere realmente interoperabili e rispondere quindi alle esigenze di una smart city queste devono essere per poter utilizzare in più domini e ambiti dati locali sono importanti come dicevo una smart city perché devono in primo luogo coinvolgere i stakeholder locali comuni imprese private eccetera concludo dicendo che appunto per avere comunità smart city città intelligenti come vogliamo definirle occorre integrare l'informazione geografica ai processi di government armonizzare i dati geografici attuare le politiche di open data almeno per i dati geografici di riferimento indirizzi particelle catastali strade queste sono delle conclusioni che mi sento di dire poi raccogliere disseminare e riusare il best practice che ci sono già in giro e cercare di farle proprie e di capire quanto siano applicabili anche ad altri in altre circostanze e anche definire una governance nazionale per l'attuazione di politiche relative alle comunità intelligenti per quanto non ne sappia in Italia il quadro normativo di riferimento è dato all'articolo 20 del decreto crescita 2.0 le prossime attività per lo studio di ULF sono diciamo stiamo raccogliendo ancora feedback sul vision document e quindi poi lo aggiorneremo con la versione abbiamo la versione 0 poi apriamo la versione 1 e poi 2 alla fine del progetto il questionario di cui vi dicevo il survey e poi abbiamo creato una community su join up e su inspire forum organizzeremo un workshop a Budapest l'11 dicembre che sarà back to back cioè praticamente il giorno dopo ci sarà quello su Copernicus organizzato quindi cercheremo anche lì di capire le sinergie tra GMS Left Observation e i dati territoriali e l'ULF Location quindi Integration of Location e Government Best Practice from Europe raccoglieremo altre informazioni quindi se avete più opportunità o interesse a saperne di più comunque qui ho anche una serie di brochure che poi lascerò e potrete avere e contattateci diciamo se siete interessati grazie per me grazie grazie a te Francesco prima di ascoltare le esperienze e la descrizione delle attività di Istat invito il dottor Gabriele Ciasullo dell'Agenzia per l'Italia digitale a integrare e riportare al contesto nazionale quanto abbiamo appena ascoltato prego Gabriele grazie grazie Sergio non era prevista la partecipazione o comunque l'intervento specifico dalla parte dell'Agenzia ma colgo l'occasione visto il tema per dare alcune notizie diciamo che forse qualcuno è già noto è stato recentemente istituito e costituito il comitato permanente per le sbattesiti per le comunità intelligenti previste dall'articolo 20 del famoso decreto crescita 2.0 il comitato è stato costituito con una determinazione del direttore dell'Agenzia Ingegner Dragosa e ha tenuto la prima riunione lo scorso 25 ottobre in questa riunione è stato nominato presidente del comitato il professor Calderini dell'Università di Torino poi tecniche di Torino hanno definito un calendario a breve e nella prossima riunione ci saranno alcune altre diciamo iniziative significative per dare corpo a quello che al quadro di riferimento previsto dall'articolo 20 che citavo prima non sto adesso a delineare le varie sfaccettature di questo articolo ma ci sono due elementi importanti che vorrei sottolineare innanzitutto il piano delle comunità intelligenti che rappresenterà un'ossatura significativa per gli sviluppi successivi delle azioni che verranno messe in campo e promosse dal comitato il comitato comprende amministrazioni centrali amministrazioni locali fa parte lanci lupi c'è l'istat ci stanno rappresentanti di associazioni maggiormente rappresentativi di imprese e cittadini un altro elemento significativo sono le linee guida che verranno di volta in volta c'è una periodicità annuale prevista sia per quanto riguarda azioni da avviare sia per quanto riguarda reportistica ovvero indicatori sullo stato di attuazione delle azioni programmate e in questo senso mi sembrava significativo quel cruscotto messo in piedi dall'osservatorio ANCI forum PA che potrebbe essere di ausilio anche per le attività istituzionali che verranno condotte dal comitato naturalmente è prevista come dicevo prima una prossima riunione entro fine mese dove ci sarà l'approvazione del verbale della riunione già tenuta lo scorso mese di ottobre e presumibilmente c'è naturalmente i verbali saranno poi resi pubblici disponibili attraverso i siti web delle amministrazioni un accenno alle linee guida perché voglio allacciarmi anche alle linee guida sui open data volgarmente detti le linee guida sui open data si chiamano in realtà linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico l'intendimento è quello di far sì che il patrimonio di dati notevole già disponibile nell'ambito della pubblica amministrazione possa essere riutilizzato non solo nell'ambito delle altre pubbliche amministrazioni attraverso politiche di accesso e condivisione dei dati ma anche a livello della società civile attraverso meccanismi di riutilizzo dell'informazione ai fini di business quindi professionisti imprese che possono dar corpo ad azioni economiche a volare dell'economia attraverso un patrimonio attraverso un capitale che in effetti già esiste verso le pubbliche amministrazioni e questa è la chiave di lettura del termine open data ed è anche l'elemento che si affianca a ciò che saranno le azioni che saranno messe in campo per le smart city laddove il patrimonio di dati unitamente al patrimonio delle persone dei cittadini rappresenta un elemento significativo per lo sviluppo tra virgolette del benessere un ultimo accenno alla periodicità di questi documenti proprio perché la situazione è in evoluzione abbiamo visto prima con i dati che ci ha presentato Dominici che c'è una continua evoluzione sia nello stato delle città sia nelle valutazioni che possono essere fatte attraverso degli indicatori che possono essere quelli già previsti dall'osservatorio smart city ma possono essere anche altre che verranno messi in campo da altre associazioni dall'amministrazione proprio in funzione di questa flessibilità le linee guida sia quelle per gli open data sia queste per le smart city hanno una priorità annuale laddove si tiene conto di volta in volta a partire dall'anno zero si tiene conto di ciò che viene effettivamente conseguito in un determinato periodo di tempo che è l'arco temporale di un anno io ringrazio di questa finestra e niente l'aiuto l'aiuto grazie grazie mille dottor Cesulo e in effetti è un'ottima cosa che ci sia stata la possibilità di un intervento sia pur breve dell'agenzia per l'Italia digitale perché ovviamente dopo la presentazione del dottor Pignatelli a proposito di questa cosa di questa iniziativa europea dopo l'affermazione che per esempio il legame tra la direttiva Inspire e l'anagrafe del cittadino è normalmente assente a livello generale certo uno si domanda come questa situazione potrebbe come si potrebbe fare una migliore sinergia tra quello che sta succedendo a livello europeo per Inspire è quello che abbiamo in programma come agenda digitale l'anagrafe del cittadino è una delle prime priorità dell'agenda digitale magari potremmo rimandare questa cosa al dibattito alla fine forse non so qua si può iniziare diciamo una serie di riflessioni sia per quanto riguarda il programma EULF sia per quanto riguarda altre iniziative in corso a livello nazionale è evidente che c'è un impegno da parte delle amministrazioni almeno il quadro normativo da un impegno alle amministrazioni di andare in una certa direzione ci sta facendo una citazione capire la crisi non vuol dire che la crisi è risolta è evidente quindi che bisogna mettere in campo delle azioni che il quadro normativo ci propone e l'intervento della società civile è un intervento che si affianca alla norma per dare un contributo significativo verso questa direzione a proposito del programma EULF noi abbiamo già sempre nel decreto crescita 2.0 un'azione già definita è quella dell'anagrafe nazionale di cui si sta occupando l'amministrazione competente è evidente che quella discrasia che è evidenziata rappresenta lo scarto tra la realtà attuale e la realtà a tendere lo sforzo e quindi fare in modo che l'informazione digitale geolocalizzata possa essere un elemento significativo nell'ambito dell'anagrafe del cittadino con cui si legano altre informazioni geolocalizzate presenti in altre applicazioni di altre amministrazioni quindi l'esercizio è quello di cercare di vedere è evidente che il dato di diciamo volgarmente indirizzo è un elemento essenziale nell'anagrafe ma è evidente che attualmente non ce n'è un utilizzo dal punto di vista digitale e giolo riferito un'altra delle azioni che sta mettendo in campo l'istat è proprio quello di fare l'anagrafe dei numeri civici ed è previsto sempre mi sembra dall'articolo adesso non ricordo l'articolo ma è previsto sempre dal decreto crescita 2.0 un altro elemento significativo possono essere le basi di interesse nazionale è un ulteriore filone che diciamo l'agenzia sta trattando e continuerà adesso nei prossimi mesi a evolvere in una certa direzione un ultimo accenno perché mi incuriosi facendo quella cosa sulle autologie non c'entra col tema di adesso però siccome noi diciamo gestiamo il repertorio e quindi siamo affacciati al tema della semantica la butto come riflessione se parliamo di ontologia trasversale per la pubblica amministrazione o di ontologie verticali per domini di competenza quindi questo è un tema che dovrebbe essere diciamo maggiormente potrebbe essere o spunto per ulteriori incontri insomma sul tema la lascio qui così tanto per come tematica e riflessione grazie bene stiamo entrando un po' nella discussione ma lasciamo la discussione alla fine e in modo da dare spazio a tutti gli interventi grazie ancora Gabriele allora do la parola a Vincenzo Patuno per il contributo all'intervento ok metto buongiorno a tutti metto anche io il cronometro parlerò di questo si stanno pendata i catalizzatori di Istat per le città intelligenti ma in realtà vado ad includere anche un paio di di spunti che avrebbe dovuto presentare il dottor Baldacci che avrebbe dovuto fare l'intervento successivo ma che non è potuto essere qui con noi quindi ha chiesto a me di sostituirlo questo perché oggi lui è andato a sostituire il presidente Golini in un'altra circostanza partiamo da dove partiamo da qui partiamo dal fatto che città intelligenti in realtà abbiamo sentito una serie di definizioni di smart city di città intelligenti una lettura che comunque può accomunare tutte le definizioni esistenti e che possiamo dire che è una città intelligente è una città che racconta se stessa attraverso i dati attraverso i dati le città fino a poco tempo fa erano sostanzialmente delle scatole nere noi veniamo in passato c'era sostanzialmente una scarsità di dati disponibili non a caso la statistica nasce proprio per poter cercare di misurare qualcosa in assenza di dati allora come si è pensato di fare dice andiamolo a chiedere e quindi se lo chiediamo a tutti abbiamo quello che viene chiamato il censimento se lo chiediamo a qualcuno selezionato quindi a un campione abbiamo quelle che sono le indagini campionari a cui si affiancano anche poi altri tipi di rilevazioni fatte attraverso i dati amministrativi però è chiaro che lo scenario negli anni è cambiato è cambiato e adesso sostanzialmente abbiamo un'abbondanza di dati ne abbiamo tanti non ne abbiamo troppi però ovviamente sono dei dati che ci cominciano a raccontare quello che c'è all'interno di quella scatola nera in realtà mi piace molto sottolineare questo tipo di classificazione che è stata fatta da Robert Groh il direttore del census biroamericano quindi una suddivisione di che cosa dei dati disponibili all'interno delle città suddivisi per organic data e design data organic data rientrano un po' tutti quei dati di cui abbiamo parlato oggi i dati satellitari i sensori i gps gli smartphone i dati dei social media e quant'altro mentre invece nei design data ritroviamo i dati amministrativi i dati dei censimenti i dati delle indagini fatte all'interno dei nostri territori questo potete trovare poi un riferimento a un articolo molto interessante sulla questione che è stato pubblicato lo scorso anno su una rivista che si chiama Significance Magazine e che cosa fare con i dati nel momento in cui ci affacciamo a vedere che cosa accade all'interno della nostra città questo per esempio è una visualizzazione di cosa accade a Detroit qui nelle aree blu sono quelle dove sta crescendo la popolazione mentre invece quelle rosse dove invece diminuisce quindi noi abbiamo un'idea di che cosa sta accadendo nelle nostre città semplicemente andando a vedere a visualizzare i dati che rappresentano un determinato fenomeno dove troviamo questi dati beh in Italia nel nostro caso abbiamo i censimenti il censimento della popolazione 2011 ci fornisce tante possibilità per poter andare a guardare all'interno delle nostre città e non solo di alcune ma in tutte le nostre città d'Italia qua per esempio siamo a Torino con i dati 2011 andiamo a vedere come è distribuita la popolazione del centro di Torino e il dato ovviamente è per sezione di censimento vi ricordo che proprio nel 2011 l'Istat ha fatto un passaggio importante che è quello di rilasciare in maniera libera e gratuita diciamo tutte le basi territoriali che negli anni precedenti in realtà erano destinate a particolari soggetti o diciamo erano sostanzialmente accessibili a pagamento qua per esempio siamo nella città di Roma vediamo come sono distribuiti i pensionati per esempio qua ancora città di Roma gli stranieri quindi riusciamo effettivamente a capire che cosa succede nelle città andando a visualizzare i dati del censimento ce ne sono tanti verranno rilasciati adesso a dicembre qualche considerazione sui dati del censimento la facciamo in seguito e la facciamo adesso la considerazione è chiaro che ci piacerebbe che voglio dire il censimento è stato fatto nel 2011 ci piacerebbe che i dati fossero disponibili subito dopo in realtà il censimento è un'operazione complessa è un'operazione molto complessa e costosa costosa poi in Italia voglio dire è stata particolarmente complessa perché di fatto ci sono stati dei problemi iniziali per esempio il fatto vedete qui nel decreto crescita 2.0 si parla di anagrafe nazionale della popolazione residente è stato calcolato che nel momento in cui si dovesse arrivare ad avere un anagrafe centralizzata unico della popolazione residente ci sarebbe un recupero di efficienza nella generazione dei dati del censimento della popolazione attorno al 24-25% che è tantissimo quindi noi scontiamo problemi di questo tipo diciamo infrastrutturale dal punto di vista del dato che cosa dice il decreto crescita in realtà proprio per andare incontro alla esigenza degli user dei consumatori del dato di dati freschi ovviamente di dati che abbiano che sviluppino delle potenzialità quindi c'è l'idea c'è il progetto del censimento continuo della popolazione delle abitazioni quindi non uno ogni dieci anni dieci anni è un tempo troppo lungo effettivamente per poter avere dati che possano preservare e conservare la potenzialità intrinseca del dato stesso ma quindi censimento continuo bene per fare il censimento continuo però abbiamo necessità di recuperare efficienza abbiamo necessità dell'anagrafe nazionale della popolazione residente abbiamo necessità anche di un'altra cosa che è quella dell'archivio nazionale delle strade dei numeri civici non avete idea del lavoro che c'è stato per poter diciamo in qualche modo andare a recuperare nei comuni le informazioni sulle strade i numeri civici gli edifici e normalizzare questo tipo di informazione per renderla disponibile ai consumatori del dato e qui per esempio è quello che accade su una visualizzazione dei numeri civici del comune di Pavia ogni pallino di fatto è sostanzialmente il numero civico o i numeri civici riferiti al centroide di ogni singolo edificio i dati verranno rilasciati a brevissimo ci sono stati dei problemi so che tanti di voi li stanno aspettando con trepidazione però voglio dire siamo arrivati in fondo e quindi questo è un bene pubblico che sarà veramente a brevissimo disponibile quindi ancora una volta dati del censimento numeri civici ma andiamo a vedere che cosa l'offerta istat tra virgolette all'interno della città ed è questo c'è stata un'iniziativa all'inizio del 2013 che va sotto il nome di microstat è chiaro che l'istat ha sempre prodotto dati dal comune in su dati nazionali regionali al più si è sempre arrivati a livello comunale ma andare a vedere dentro la città è sempre stato off limit per tutta una serie di ragioni perché di fatto le indagini campionari non ci arrivano perché l'unica operazione che viene fatta dentro le città è quella dei censimenti a livello di sezione di censimento e basta quindi non andiamo ad aprire a scoperchiare questa iniziativa microstat ha consentito all'istat di pensare di rilasciare file di microdati sub diciamo urbani file di microdati che possono essere utilizzati diciamo per i vari scopi in questo caso abbiamo gli incidenti stradali quelli che sono rappresentati su quella mappa sono gli incidenti stradali riferiti al 2012 per quanto riguarda gli incidenti fatti dove almeno uno dei soggetti coinvolti era in bicicletta quindi potete trovare il link là sotto adesso proprio ieri sono stati rilasciati nuovi dati nuovi macro dati sugli incidenti stradali con un evento tra una conferenza stampa ACI Istat congiunta a breve verranno rilasciati anche i micro dati dei nuovi dati aggiornati andiamo avanti capite bene come il cubo nero la scatola nera iniziale diventa man mano più trasparente diventa trasparente nella misura in cui noi andiamo a rendere pubblici i dati i dati non solo esistono ma nel momento in cui sono resi pubblici e quindi riutilizzabili dai consumatori del dato allora abbiamo effettivamente che questa scatola diventa pian piano trasparente stiamo parlando di fatto di open data chi produce i dati che raccontano quello che accade nella città sono ovviamente la parte pubblica amministrazione government la parte aziende che operano sul territorio quindi possiamo immaginare l'azienda dei trasporti piuttosto che quella del gas piuttosto che quella dell'energia elettrica piuttosto quello che volete poi c'è una parte importante che è quella dei dati di provenienza community di provenienza community e quindi lo vedrete nell'intervento successivo di Maurizio Napolitano che tra parentesi ringrazio perché lui mi ha suggerito il titolo di questa presentazione andiamo avanti perché diciamo system è chiaro che abbiamo detto open data fondamentale per capire effettivamente cosa accade nella città e per poter consentire ai soggetti interessati di poter creare valore aggiunto sul dato valore aggiunto che significa generare informazione generare conoscenza generare anche economia quando è possibile farlo e così via il system che cos'è il system è sostanzialmente una rete una rete di uffici di statistica della pubblica amministrazione ci troviamo dentro i comuni ci troviamo dentro le regioni gli enti locali in generale in senso lato la pubblica amministrazione centrale e quant'altro perché diventa strategicamente importante perché di fatto il system gli uffici di statistica operano hanno sempre operato guardando al territorio guardando a quello che accade nei territori di riferimento non a caso ad esempio le regioni rilasciano ogni anno gli annuari statistiche regionali i comuni fanno altrettanto tanti comuni fanno altrettanto per raccontare effettivamente che cosa accade nei territori in realtà un ente system ha un quid in più che sostanzialmente è la possibilità di generare essa stessa informazione statistica dati statistici ha la possibilità sostanzialmente di ampliare l'offerta informativa sul territorio semplicemente perché un ente system ha la possibilità di accedere ai file di microdati istat per poter effettuare nuove elaborazioni vi faccio un esempio il comune di riva del garda voglio dire piuttosto che di trento o quello che volete ha la possibilità di accedere ai file di microdati quindi significa le singole risposte di ogni singolo rispondente del censimento per calcolare nuovi indicatori ad esempio a livello di sezione di censimento per il proprio territorio questo che cosa significa significa che il system diventa uno snodo cruciale per ricalibrare l'offerta informativa nei confronti della pubblica istimistrazione stessa locale delle aziende del territorio e di quelli che ovviamente sono i city users qua uso una definizione di Michele Vianello che a me piace molto il fatto che noi non ci rivolgiamo ai cittadini ma ci rivolgiamo a chi utilizza la città e quindi sostanzialmente agli studenti fuorisede piuttosto che ai turisti piuttosto che ai pendolari che la mattina arrivano usano la città e poi a fine lavoro rientrano a casa parlando poco fa è stato parlato delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico della pubblica amministrazione ho avuto l'onore di partecipare a definirle l'ufficio di statistica è qui è scritto lì e viene ribadito ancora una volta il ruolo del system come un anello importante nell'intera catena degli open data sia per promuovere le nuove tipologie di dataset sia nel validare dal punto di vista metodologico e statistico di dati pubblicati di che stiamo parlando stiamo parlando di qualità del data questo l'ho messo per pubblicità questo è il system IT e il sito stiamo parlando di qualità del dato qualità del dato questo qui è la qualità del dato nel senso che il system è un network dove produrre dati di qualità diventa un elemento chiave in tutto il processo di produzione statistica non soltanto dati produzione di dati di qualità ma anche attenzione alla qualità dei processi che generano quei dati e per questo per questo nasce un progetto che va sotto il nome di Sistanab abbiamo fatto un paio di incontri preliminari però sostanzialmente la cosa è partita l'aveva annunciato Giovannini quando era ancora presidente dell'Istat alla conferenza nazionale di statistica del febbraio del 2013 come progetto strategico dell'Istat si tratta in sostanza di mettere in rete la produzione dei dati di ogni singolo ente Sistan di chi ci sta ovviamente che viene visto come un nodo quindi un nodo attraverso cui vengono resi pubblici vengono resi disponibili dataset strutturati quindi con una forte modellazione sulla parte dati ma soprattutto sulla parte metadati quindi ci colleghiamo sostanzialmente a un discorso che va nella direzione dell'interoperabilità dei dati quindi quando la modellazione è spinta verso metadati standard di riferimento ci sarà un nodo centrale che in realtà sarà l'entry point di tutta l'informazione prodotta dagli enti Sistan che quindi sarà un'informazione di qualità probabilmente sarà lo strumento che tenderà a normalizzare ad armonizzare i dati da loro perché al momento ognuno procede come meglio crede quindi anche dati simili in realtà hanno nomi diversi perché non c'è nessun tipo di piattaforma sostanzialmente che consente di guidare le scelte fatte da ogni singola amministrazione questo è un processo che è avviato e che tenderà proprio ad ottenere a spingere i vari enti Sistan a produrre dati di qualità a produrre dati che in qualche modo possono essere interoperabili tra loro abbiamo visto la qualità l'ultima cosa è che ovviamente tutto il processo di riutilizzo dei dati va facilitato va stimolato sta dando vita a questo Open Data Lab che in sostanza è un brand un punto un contact point all'interno dell'Istat che diciamo facilita ha il compito di facilitare l'utilizzo del dato all'interno delle community delle aziende delle start up di questo nuovo mondo che tradizionalmente si va ad affiancare a quello che in realtà è sempre stato il mondo di riferimento dei consumatori del dato che è sempre stato il mondo istituzionale e il mondo accademico io mi fermo qui per questa parte questi sono i miei riferimenti mi aggancio un po' sulla parte di Baldacci in realtà volevo sottolineare due cose ve le faccio vedere qua ve le faccio vedere ve le faccio vedere qua e che sono sostanzialmente che sono sostanzialmente queste allora c'è un programma nell'istat che si chiama stat 2015 che diciamo è un programma che è partito nel 2010 e che tende a industrializzare la produzione statistica cioè questo ha dei risvolti interessanti sia dal punto di vista tecnologico ma soprattutto dal punto di vista organizzativo dei comportamenti mentre prima diciamo ogni produttore ogni settore di produzione sovrintendeva se vogliamo la produzione del dato dal disegno dell'indagine fino alla diffusione attraverso il Stato 2015 si cerca invece di ottimizzare razionalizzare quindi andare ad eliminare le disottimizzazioni in termini di piattaforme di riferimento in termini di skill che vengono impiegati all'interno dei vari processi di produzione per poter non solo generare risparmio ma ovviamente aumentare la tempestività di rilascio del dato la qualità del rilascio del dato la qualità dei processi che generano quei dati e una cosa interessante vi ricordate andiamo subito all'ultima slide così che è sostanzialmente questa che è sostanzialmente questa che vi racconta un'altra storia avete visto nella prima nella nella prima della seconda slide abbiamo parlato di organic data e design data è chiaro che l'Istat non produrrà mai ovviamente organic data però quello che si sta guardando adesso è pensare di poter utilizzare questo tipo di dati che una delle denominazioni è big data per poter generare poi di fatto design data o quantomeno per poter correggere design i dati insomma designed all'interno di piccole aree i dati organic i dati big in realtà hanno diciamo una caratteristica che è quella della low density quindi noi ce l'abbiamo in un punto però poi attorno non sappiamo non abbiamo una copertura voglio dire nazionale come può essere il dato disegnato del censimento o del dato amministrativo o quant'altro però questo può essere interessante proprio all'interno di piccole aree per andare a correggere per andare a capire effettivamente che cosa accade esempi ce ne sono diversi per esempio non so l'accesso al roaming dei cellulari alle operazioni di roaming per esempio ci può dire come si spostano da dove vengono i turisti stranieri in Italia per esempio o gli stranieri in generale in Italia piuttosto che immaginare altri tipi di cose una cosa su cui l'Istat sta lavorando assieme ad Eurostat è immaginare questo e poi concludo voi sapete che l'Istat rilascia l'indice dei prezzi al consumo il vecchio modello il vecchio impianto metodologico prevede che i dati vengono rilevati presso i negozi quindi quanto costa il computer quanto costa la bottiglia di Amaro eccetera eccetera è chiaro che in un periodo in un'epoca di abbondanza in un'era di abbondanza di dati come quella attuale probabilmente non ha molto senso andare a vedere quanto costa qualcosa nel negozio posso benissimo immaginare di prenderlo ad esempio su internet questo è quello che si sta facendo proprio sull'indagine dei prezzi a livello europeo con lo sviluppo di sistemi di web scraping che vanno ad acchiappare un po' i dati di interesse per poter generare immaginare questo tipo di analisi dal web e poi effettivamente capire se questo tipo di metodologia può essere sovrapponibile con quella passata immaginate una cosa del genere è chiaro che avremmo un modo agile se vogliamo di poter ottenere dati e ovviamente molto meno costoso dell'indagine tradizionale non vi nascondo che fare un'indagine diciamo di tipo tradizionale un'indagine campionaria è un'operazione veramente molto costosa quindi è chiaro che in una visione a breve medio periodo di fatto quello che accadrà e che sta già accadendo è vedere effettivamente che cosa la tecnologia il sistema il mondo ci mette a disposizione per poter utilizzare per poter andare a misurare continuare a misurare fenomeni in modo sempre più accurato e preciso in porzioni di territorio sempre più piccole e soprattutto con tempestività sempre maggiori perché adesso abbiamo bisogno di dati di oggi i dati di oggi che ci raccontano quello che sta accadendo nei nostri territori in real time o in near real time io finisco vi ringrazio dell'attenzione grazie Vincenzo per accelerare come avviene usualmente verso la fine i tempi do subito la parola a Maurizio Napolettano che ci esporrà appunto l'esperienza del cosa si riesce a ottenere col volontariato nell'ambito dell'informazione geografica prego Maurizio eccomi qua salve a tutti allora OpenStreetMap la mia presentazione sarà divisa in due parti la prima parte introduce OpenStreetMap la seconda invece fa un caso specifico su cosa intendo quando gli smart citizen organizzano le smart city non dovrei dire che smart tra parentesi perché è la città che diventa smart una volta che i cittadini sono attivi allora OpenStreetMap se uno va sul sito si trova questa cosa qua l'informazione più bella che secondo me uno scopre è la wikimap libera del mondo e soprattutto la parola modifica infatti OpenStreetMap è quello che vedete una mappa libera modificabile dell'intero pianeta e la frase che mi piace in assoluto di più è fatta da persone come te e ha delle analogie con quello che è wikipedia quindi ciascuno di noi può contribuire per creare la mappa di OpenStreetMap la storia di OpenStreetMap nasce in Inghilterra nel 2005 nel 2006 visto questo grandissimo interesse intorno al progetto si è deciso di creare una fondazione come vedete in questa immagine ci tengo a segnare soltanto 4 punti per farvi capire che OpenStreetMap non è soltanto un progetto così anarchico ma in realtà c'è una grande comunità dietro come vedete in fondo un milione di utenti che ci stanno partecipando nasce la fondazione la fondazione ha lo scopo di far sì che il progetto vada avanti quindi raccoglie fondi cerca di fare aiuta il server a stare in piedi e aiuta anche la comunità ad andare avanti finanziando anche lo sviluppo di determinate applicazioni uno dei punti fondamentali che ha fatto sì che OpenStreetMap anche venisse molto conosciuta nel 2009 è Kibera Kibera è una bidonville che si trova a Nairobi e ci sono 150.000 abitanti è una mappa che non dovrebbe esistere non c'è una mappa di Kibera gli abitanti di Kibera l'hanno costruita grazie a OpenStreetMap allora qua anche il concetto nuovamente quando gli smart citizen cominciano a creare la città altro punto che secondo me è fondamentale sapere è questo discorso dell'ODBL perché è la licenza attraverso cui i dati di OpenStreetMap vengono usati ci tengo a sottolinearlo perché spesso mi trovo con persone come quelle che ho adesso in questa sala che mi chiedono cosa vuol dire ma non si può vendere eccetera l'ODBL praticamente è una licenza che protegge prima di tutto la comunità e la comunità il prodotto della comunità sono i dati pertanto protegge i dati quindi l'obiettivo dell'ODBL OpenDatabase License è che chiunque con qualsiasi contributo che viene dato ai dati rimanga aperto e tutti i lavori invece derivati dai dati possono essere utilizzati con qualsiasi altra forma di licenza l'importante è che venga citata la fonte la partecipazione come vedete in OpenStreetMap è altissima quando vedete dei picchi verso il basso è perché la fondazione ha deciso di mettere la macchina sta facendo upgrade di sistema e la comunità in Italia è molto forte anche quella nonostante che il progetto sia nato in Inghilterra la comunità più forte in assoluto è la Germania e qui non riesco mai a capirlo vabbè la Germania è una delle popolazioni più in Europa ha un gran numero di abitanti però mi stupisce penso sempre che ci sia qualcosina in più ci sia soprattutto un concetto di cultura della geografia che è anche di condivisione della conoscenza che porta a fare questi obiettivi però in Italia come vedete ci difendiamo molto bene al quinto posto e la comunità italiana è una comunità attiva abbiamo al momento oltre a 12.000 contributori e quando dico contributori è una persona che va sul sito di OpenStreetMap lascia almeno un dato dopo ci sono degli utenti che sono molto più attivi e meno attivi abbiamo uno spazio dove ci confrontiamo e come potete vedere c'è sempre la possibilità di prendere visione di chi sta partecipando qua arriva Delgardo attraverso tantissimi tool disponibili potete vedere chi è questo momento che sta contribuendo alla mappa per potersi mettere in contratto chiaramente anche in Italia abbiamo l'esigenza di incontrarci e allora quest'anno abbiamo organizzato il quinto incontro nazionale OSMIT OpenStreetMap Italia che stavolta l'icona è leggermente diversa perché abbiamo voluto fare un passo in più e l'abbiamo anche ragionato sempre in ottica di smart cities e di smart community far incontrare la comunità di OpenStreetMap con quella di Wikipedia che insieme raccolgono la conoscenza e la condividono come si contribuisce a OpenStreetMap si contribuisce attraverso cinque passaggi questi cinque passaggi poi sono quella che viene definita la gerarchia della conoscenza dai dati raccolgo i dati li trasformo fino ad arrivare alla condivisione di questa conoscenza che è la mappa di per sé punto 1 e 2 la raccolta dei dati questo qua è Edoardo Marascalchi uno dei personaggi più attivi uno dei pionieri di OpenStreetMap in Italia durante quello che è un mapping party mapping party sono giornate in cui la comunità di OpenStreetMap si ritrova per raccogliere dati prima Vincenzo diceva i numeri civici sono lì chiaramente è un gran lavoro da fare ma sono lì così come sono i lampioni le strade altre informazioni se non riusciamo ad averli li andiamo a raccogliere e li mettiamo condivisi con tutti questi sono gli strumenti che la comunità di OpenStreetMap utilizza e tra questi ce n'è uno che di solito fa sorridere infatti vedo qualcuno che sorride che è lo scontrino fiscale perché finché parliamo di GPS tutto a posto parliamo di mappe raccogliamo dati quando parliamo di computer fotografie utilizzando GPS riusciamo ad avere queste informazioni la possibilità anche di registrare l'audio collegato alle coordinate possiamo farlo block notice fa sempre comodo per ricordarsi il nome della strada lo scontrino fiscale perché gli utenti di OpenStreetMap raccolgono informazioni da ogni dove lo scontrino contiene delle informazioni contiene l'indirizzo il numero civico l'attività commerciale allora questa raccolta collettiva attinge da qualsiasi fonte per andare a migliorare sempre di più questa base dati l'inserimento dei dati una volta che abbiamo queste coordinate abbiamo la necessità anche di capire cosa rappresentano qua so benissimo che far avveridire tutte le persone che si occupano di GIS perché le primitive di OpenStreetMap sono nodi way che sono praticamente unioni di nodi che possono essere linee aperte chiuse o per definire un poligono non c'è come vedete e si usa la way chiusa aggiungendo un attributo che dice che è un poligono area yes ci sono poi le relation che è evitare di reinventare la ruota se ho bisogno di costruire il percorso di un autobus dico semplicemente attraverso quali strade è passato quindi vado a riutilizzare quello che esiste definite le primitive geometriche ho la necessità di capire cosa sono questi oggetti la comunità di OpenStreet ma ragione attraverso i tag che sono chiave valore questi tag vengono definiti all'interno di un wiki e quindi tutta la comunità può decidere da lì ma nessuno vi vieta di inserire i vostri tag non c'è un controllo so che questo fa paura spesso però anche la partecipazione di OpenStreetMap è molto attiva e comunque tutti gli errori sembrano banali ma vengono a galla abbastanza in fretta in ogni caso quando si usano i tag che ci sono sul sito ufficiale il vantaggio è che per ognuno di quei tag c'è un motivo per cui sono nati che è indirizzato verso un uso un uso che può essere una mappa un uso che può essere anche un'applicazione e tanti altri scenari questo qua è il caso della chiave trasporto pubblico la comunità dichiara che è una chiave trasporto pubblico che può avere valori di piattaforma stazione fermata eccetera vi spiega cosa si intende e quali sono le immagini con cui si fa riferimento di questa cosa cosa stiamo venendo a descrivere ogni tag può a sua volta può essere arricchito con ulteriori tag quindi la fermata dell'autobus può avere un nome può avere anche la tabella degli orari e vengono inserite tutte queste altre informazioni come vengono inserite vengono inserite attraverso varie applicazioni questa è la possibilità di aggiungere e correggere dei dati che già sono presenti questa è sempre riva del Garda qua ho preso il lago e qua posso andare ad aggiungere tutte le informazioni che mi interessano anche come il nome di quel lago ha in diversi lago di Garda è secondo diverse lingue ho anche ad esempio una cosa che mi affascina sempre il nome di piazze che hanno più di un nome la toponomastica ufficiale dice una cosa le persone la chiamano un altro storicamente ne ha un altro ancora e mi ricorderò sempre il mio collega americano che è entrato in ufficio e mi disse Maurizio scusa dov'è piazza Italia che è una piazza di Trento io mi sono girato senza neanche guardare ho detto guà che è al centro della città ho levato il dito c'era scritto piazza Cesare Battisti ma lui ha ricevuto un invito per andare in piazza Italia questo non lo sapeva la possibilità poi di prendere tracce GPX quindi le tracce vengono portate all'interno di applicazioni e a sua volta viene deciso cosa sono queste informazioni tutto il lavoro di campionamento ricalco l'autofortocarta con permesso questo qua è un'immagine del portale cartografico nazionale che ha dato il permesso a OpenStreet ma per ricalcare le foto nel 2006 oppure anche con semplicemente la conoscenza del posto c'è questa applicazione molto carina si chiama Fill Paper selezionate un'area vi crea una mappa cartacea questa mappa cartacea a virtù di questi punti neri è georeferenziabile quindi io mi inserisco tutte le mie note qua sopra e posso portarmela come background della mia applicazione per poter andare poi a riportare le informazioni che ho raccolto esistono poi anche sistemi per giocare questo qua è un'applicazione in cui si chiede di risolvere alcune missioni missioni che o sono per mancanza di dati perché magari di una strada mi interessa sapere come è fatto il pavimento o manca il nome oppure anche di verifica esattamente quell'oggetto si chiama in questo modo e viene fatto secondo dei giochi in uno stile Foursquare rappresentazioni una volta che abbiamo i dati e qua penso di sfondare una porta aperta si fa tutto di più prima di tutto un piccolo confronto tra come è rappresentata Riva Del Garda su OpenStreetMap e come è rappresentata su Google potete farmi la critica e l'accetto che magari quella di Google è più leggibile ma il messaggio che mi interessa di più è che tutte queste persone si stanno attivando per creare questa mappa e quindi abbiamo questi dati mentre in Google potrebbero esserci come no non lo so non ho idea e dopo gli stessi dati mi permettono di fare rappresentazioni diverse questa è sempre la stessa mappa rappresentata in quattro modi diversi come vedete c'è scritto OSM 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 e addirittura c'è chi le utilizza questi dati per fare delle mappe artistiche una mappa che probabilmente all'esperto cartografico non interessa ma un mio amico l'ha utilizzata per la sua linea di prodotti per i suoi vini utilizza le etichette con sopra questa mappa qua un'altra mia amica proprio oggi mi ha dato una borsa fatta con queste mappe un'altra mia amica ancora sta usando questa carta per impacchettare regali e dopo c'è anche chi arriva a portarvi in 3D in 3D chiaramente si tratta di una semplificazione del dato però comunque avendo disponibile questi dati c'è chi riesce a fare queste operazioni che sono disponibili a chiunque e dopo possiamo anche decidere di apparire su quella mappa e poi tantissime altre applicazioni anche qui penso che possiamo sfondare una porta aperta da sistemi per la navigazione assistita online offline a sistemi per poter creare mappe di orienteering sistemi per creare delle mappe cartacee in cui ho una mappa la griglia sopra e sotto lo stradario in cui si cerca una via C4 B2 avanti di questo passo oppure per crearmi percorsi di montagna la fantasia non ha limite dentro OpenStreetMap questa è un'applicazione che mi piace un sacco che è nata da poco un'applicazione tedesca disponibile in italiano tedesco che permette di pianificare dei percorsi utilizzando i dati di OpenStreetMap o percorsi a piedi o percorsi in bicicletta dandovi anche la fatica anche se il tipo di percorso è un percorso in bicicletta sportivo piuttosto che di montagna avanti di questo passo e usa soltanto i dati di OpenStreetMap mi permette di avere determinate cose dati che vengono dalla comunità e validati dalla comunità e ha tantissimi altri oggetti che permettono di fare tante cose come vedete calze la Michelin ha deciso di avere dati di OpenStreetMap scarpe coperte questo ci tengo a sottolinearlo perché la provincia di Udine ha finanziato un progetto per un roadbook ciclistico coi dati di OpenStreetMap in cui le mappe sono quelle di OpenStreetMap utilizza per lo sfumato il modello digitale del terreno dell'offerio di Venezia Giulia e a fianco ci sono i racconti e fotografie raccolte dalla comunità di OpenStreetMap hanno finanziato questa guida che viene distribuita dall'azienda provinciale adesso vediamo un esempio proprio preciso di quando gli smart lucani organizzano la smart Matera Matera che si è candidata a capitale della cultura per il 2019 una persona di Matera del comitato di Matera 2019 è venuta a Trento a Rovereto scusatemi durante Osmit a presentare la candidatura per portare l'evento Osmit a Matera loro però hanno detto però noi di OpenStreetMap non è che ne sappiamo tanto però stiamo aprendo i nostri dati che rientra anche in quello che è la candidatura per Matera come capitale della cultura stiamo aprendo i nostri dati e ci piacerebbe anche in capire come usare questi dati e il nostro know-how per arricchire la mappa di OpenStreetMap quindi mi hanno invitato a Matera il 21 ottobre per spiegare cos'è OpenStreetMap questa era Matera nel 2008 su OpenStreetMap Matera nel 2009 Matera nel 2010 Matera 2011 Matera 2012 Matera 2013 ma soprattutto l'evoluzione massima è venuta tra il 21 di ottobre e il 5 di novembre dopo che sono stato lì infatti se guardate stanno aumentando tantissimo le informazioni torno un attimo indietro perché sono molto veloce i dati che vedete alcuni sono dati che vengono dal portale dei dati aperti del comune altri sono dati che ha inserito la comunità per me è stato un momento molto bello quando è stato un workshop di due giorni il primo giorno ho parlato per tre ore spiegando cos'è OpenStreetMap il secondo giorno mi sono trovato con delle persone il numero era più o meno come quelli presenti qua e abbiamo fatto assieme delle modifiche e c'era la mappa che praticamente era priva di nomi delle strade e le persone che erano in sala mi dicevano come correggere qual era la direzione di marcia come era il pavimento sul know-how che avevano lì confrontandosi fra di loro un po' di dati appunto vengono da lì e l'altra cosa curiosa è che abbiamo scoperto che alcuni dati del comune sono sbagliati i dati ad esempio delle farmacie abbiamo provato a importarli e appena io ho caricato le farmacie non essendo io di Matera per me andava bene dove stavano subito le persone che erano in sala mi hanno detto no non va bene quella non c'è quell'altra non c'è e così si è creato un rapporto anche col comune per poter correggere quel dato lì questa cosa è interessata anche la televisione di Matera H24 che in realtà mi hanno detto che si vede sia in Basilicata che in Puglia e poi da lì è partito il gruppo di OpenStreetMap all'interno di Facebook e si tengo proprio perché come vedete mi chiedono alcune cose besiliari vi riporto in discussione si può mappare in tantissimi modi entusiasmo che soddisfazione alla fontanella alla torretta del centro commerciale uno vado avanti qua non riesco a leggere bene comunque sto costruendo il mercato qua addirittura se mi sono costruito il mercato e volevo sapere come sarebbe apparso in 3D e la comunità subito gli ha dato una risposta su come poteva essere dall'entusiasmo poi la crescita è stata esponenziale c'è un'applicazione per OpenStreet ma perché si chiama Wheelmap che permette di identificare i livelli di accessibilità accessibilità per disabili in maniera molto semplice però ci passo forse ci passo non ci passo proprio non lo so e hanno detto ragazzi ma stiamo facendo questo gran lavoro perché iniziamo anche a raccontare questo problema qua visto che a Matera non so se siete stati comunque non è che sia proprio agibile per tutti e addirittura poi mi è piaciuto un sacco questo intervento ragazzi sto mappando c'è questa cosa qua che dovrebbe essere sottoterra è apparsa fuori ho sbagliato qualcosa ma soprattutto questo ha detto mi ricordo perfettamente sotto la scalinata c'era una porta non mi posso sbagliare perché qualche bravo materano ci ha buttato davanti un paio di buste di immondizie davanti di questo passo queste persone stanno contribuendo a migliorare la mappa di OpenStreet ma sanno che possono ricevere le applicazioni che vi ho fatto vedere prima perché mettendo i dati da sopra se li trovano adesso c'è un'idea da parte del comune di distribuire la mappa quella che vi ho detto la mappa con sopra il grigliato di distribuirlo tramite l'ufficio del turismo ma sanno che ci sono tantissime altre possibilità c'è anche un po' di persone dato che è l'irica di Bene Breakfast che hanno iniziato a costruirsi le loro mappe un'altra persona dell'ufficio turistico mi ha detto ma quella cosa che mi ha fatto vedere di Udine posso farla anch'io certo è avanti di questo passo i contributi poi la cosa bella è che la comunità di OpenStreetMap ha iniziato a intervenire su OpenStreetMap ma stesso questo Sbiribizio che tra l'altro io ho pubblicato questo slide questa mattina e mi è arrivato un messaggio alle sette e mezza sul cellulare che mi diceva guarda che è un errore su una data questo ragazzo qua che sta a Casamonferrato ha lasciato delle note perché in OpenStreet ma potete inserire dati ma se non siete sicuri potete lasciare delle note che altre persone potranno leggere ha lasciato delle note e dice ragazzi Sbiribizio ci ha detto che c'è un problema andiamo a controllare e Sbiribizio ancora che va a chiedere scusa ma qui c'è un altro problema e dopo sono nate tantissime idee perché ci sono un sacco di idee che nascono da associazioni a Matera che vogliono poi prendere forma e hanno capito che potendo creare delle mappe in maniera abbastanza semplice riescono a realizzarle e allora qua come vedete c'è la necessità di utilizzare di riqualificare le zone urbane per l'agricoltura qua adesso non riesco a leggere bene comunque leggete meglio di me addirittura qualcuno ha detto dato che una delle ultime azioni che non ho all'interno delle slide che ho purtroppo perché uno screenshot l'ho fatto il giorno il giorno prima hanno importato i sassi non so se conoscete la zona e praticamente adesso ci sono inseriti i sassi però i sassi non bastano i caseggiati che ci sono a Matera perché questi qua hanno dei percorsi interni che ho scoperto non esserci toponomastica e subito propongono facciamo la mappa con i percorsi più belli dei sassi tra l'altro si sposta questo dal gruppo Facebook alla community perché la community che sta spingendo per Matera 2019 quello che sta facendo si dà poi delle missioni all'interno della community e questa qua è diventata una delle missioni allora come vedete secondo me è un ottimo OpenStreet è un ottimo catalizzatore però non è tutto oro quello che luccica servono obiettivi comuni servono eroi c'è persone che dicono io ci sto vado avanti però anche servono anche qualcuno che abbia un po' di leadership politica intendo dire queste persone hanno bisogno di incontrarsi hanno bisogno di infrastruttura e quindi la pubblica amministrazione viene incontro non li può aiutare ma soprattutto ci vuole anche un po' di fortuna su questa cosa qua affinché una comunità parta tutte le volte secondo me in questo momento a Matera c'è questo vantaggio che c'è l'obiettivo di diventare capitale della cultura europea vediamo cosa succederà più avanti però finché diventa tutto ciò diventa educazione se le persone di Matera che hanno contribuito finora hanno apparato questo e riescono poi a migrarlo ad altri diventa educazione quella di continuare a gestire questi dati e gestire questa mappa se poi questa mappa comincia a diventare la mappa che viene usata quantomeno viene diffusa allora aumenta il valore aggiunto di questo qua io sostengo sempre e questo Sergio lo sa benissimo che i geodati sono potentissimi per avvicinare le persone al concetto di open data e per avvicinare anche le persone alla cultura digitale perché c'è un grosso problema di capire le cose io penso sempre che l'informatica essendo la scienza dell'informazione l'informazione è un bene di tutti non dobbiamo subirla ma dobbiamo capirla poi dopo ognuno può capirla senza metterci tanto effort quando avviene l'idraulico a casa mia io non so cosa sta facendo però so cosa vuol dire riparare una lavatrice alcune volte piacerebbe anche capirci un po' di più perché arriva con un cacciavite e una spugna me la sistema e dico ma porco cane dovrebbe essere facile però non so tempo per studiare e allora sui soldi per pagarlo insomma concludo qua queste qua se avete bisogno di contattarmi ecco qui grazie 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 Maurizio allora per l'ultimo intervento invito Nello Iacono che affronterà il tema della qualità dei dati con un'attenzione al dato geografico difficile parlare dopo Maurizio sia perché siamo arrivati alle 2-20 sia perché è entusiasmante quello che vorrei diciamo così velocemente dirvi e un po' spero una una sintesi di quello che ci siamo detti in questa sessione partendo da proprio quello che diceva alla fine Maurizio e dal diciamo così dal valore che dà la partecipazione direi la necessità della partecipazione perché quello di cui alla fine abbiamo detto è che parlando sia di di rete di governance sia di importanza della partecipazione dei cittadini perché effettivamente si possa parlare di smart city stiamo dicendo che abbiamo la necessità di creare una una rete e un ecosistema in cui la parte dei cittadini non sia quella dei consumatori e perché questo avvenga come salto non può essere non possono essere delle iniziative spot oppure delle diciamo così delle iniziative di volontariato che possono riuscire o meno a seconda appunto della presenza di animatori molto convinti che riescono a portare avanti le cose su alcune aree e invece c'è bisogno di una presa di coscienza molto forte noi sappiamo che non abbiamo un'agenda digitale nonostante nel decreto crescita ce ne sia un pezzetto non abbiamo una strategia complessiva sul digitale perché mancano alcuni pezzi fondamentali uno è proprio quello che riguarda i cittadini sia dal punto di vista della cultura digitale dall'alfabetizzazione della partecipazione e l'altro è tutto il mondo delle imprese cioè come facciamo effettivamente a fare in modo che si crei questo ecosistema l'agenda il pezzo di agenda digitale che abbiamo è molto concentrato sulla pubblica amministrazione e questo è un problema che ci portiamo appresso e che ci porteremo appresso via via che iniziamo a attuare il decreto crescita senza ampliare il quadro di riferimento per cui l'attenzione nel momento in cui appunto andiamo sull'implementazione è quello di capire che in qualche modo ci manca un pezzo che dobbiamo integrare perché se non lo integriamo non avremo città intelligenti e non avremo un ecosistema per gli open data quello che ci manca è la strategia complessiva a livello di agenda digitale ma anche nelle diverse aree noi sappiamo che nel decreto crescita addirittura nell'articolo 20 si parla di alcune misure diciamo così per l'area delle comunità intelligenti però in realtà non c'è una vera definizione di comunità intelligenti e dall'altra parte nel tavolo non è previsto da questo punto di vista neanche una partecipazione dei cittadini particolarmente robusta e molto concentrata sulle pubbliche amministrazioni allora il problema è se gli open data possono essere come anche diceva Maurizio un punto che permette ai cittadini di entrare i cittadini le imprese quindi le organizzazioni a entrare molto di più nella costruzione della nuova società che vogliamo costruire in cui l'utilizzo delle tecnologie digitali diventa fondamentale perché possano effettivamente possano essere un elemento di trasformazione e gli open data diventano molto importanti e devono essere importanti non dal punto di vista tecnico e quindi anche e neppure soltanto dal punto di vista della trasparenza ma sfruttando tutti i benefici che ne possono essere collegati e allora sapendo che abbiamo diverse debolezze dobbiamo agire tentare di costruire un ecosistema che ci permetta invece di realizzare qualcosa di diciamo così forte solido e per quanto possibile anche duraturo l'idea è qui cerco di andare anche un pochettino a dare delle sollecitazioni sperando che poi questo possa stimolare anche un interesse vostro nel seguire il percorso che stiamo cercando di fare un'idea è quella di fare in modo che queste aree quindi l'area privata l'area dell'associazionismo che appunto si confronta su diverse iniziative sul territorio quello che viene chiamata comunità open data in generale possa avere un luogo stabile di confronto e di realizzazione e di concretizzazione delle strategie per quello per questo abbiamo battezzato dopo l'esperienza dell'anno sco di quest'anno dell'open data day che ha visto l'italia come il secondo paese nel mondo per estensione di sedi che sono state coinvolte per questa giornata internazionale dedicata all'open data di fare un passo avanti e farlo tentando di fare qualcosa che sia non estemporaneo ma che possa via via accompagnare anche la politica e le istituzioni nella costruzione della strategia e nella sua implementazione facendo in modo che si superi il diciamo così la politica delle macchie di leopardo comunque del volontariato oppure legata molto all'illuminismo di qualche area e quindi ci stiamo incamminando su un percorso in cui associazioni organizzazioni si mettono insieme per dare una mano anche alle istituzioni per creare meglio questa questo incontro tra esigenze e politiche soprattutto questo questo diciamo supporto alla partecipazione dei cittadini può far bene al far sì che si sviluppi il concetto del del dato aperto aperto per davvero che non significa soltanto quindi dal punto di vista del formato ma e quindi sappiamo la gradatoria fino all'eaking top data ma anche tenendo conto dell'accessibilità effettiva del dato del costo diritti e licenze e della qualità del dato qualità che sappiamo che è stata anche definita nel senso che abbiamo delle norme ISO che definiscono quali sono le caratteristiche di qualità che possono essere riferite ai dati il l'utilizzo il vero utilizzo dei dati dipende dal fatto che noi abbiamo dei dati aperti veramente e se avete visto i risultati del l'open data index del open knowledge foundation così come anche l'open data barometer sono tutti degli indici che danno una valutazione del come i paesi si stanno muovendo sia dal punto di vista delle politiche ma poi anche dell'implementazione dell'impatto nella società ma guardando non tanto al e non soltanto al tipo di formato ma anche a come effettivamente questi dati possono avere un utilizzo effettivo e quindi un impatto a livello sociale economico all'interno delle società l'Italia è messa male ovviamente su queste su queste aree ma la cosa che fa diciamo così far riflettere soprattutto è che uno dei punti più critici che abbiamo nel nostro paese è proprio dal punto di vista delle politiche quindi dell'impostazione della strategia sul fronte degli open data tutti hanno poi invece problemi a livello di implementazione e di impatto faccio un brevissimo excursus sul qualità perché come diceva anche Maurizio nell'applicazione su open street map il concetto di qualità è quello che si coniuga molto di più con la partecipazione dei cittadini sappiamo che la qualità dei dati nelle norme ISO è stata definita attraverso queste caratteristiche che sono suddivise tra qualità inerente cioè a prescindere dal supporto tecnologico e qualità di sistema dipendente dal supporto tecnologico e ovviamente non tutti i dati devono avere queste caratteristiche diciamo così al top della possibilità ma ovviamente a secondo del tipo di utilizzo che si vuole fare dei dati un profilo di qualità però deve essere definito perché il profilo di qualità è molto vincolante per l'utilizzo che poi se ne deve fare però avere dei profili di qualità elevati non è scontato e non è semplice è anche costoso ed è per questo che non soltanto occorre capire qual è il beneficio che se ne può avere rispetto a quei dati specifici dal punto di vista economico di impatto di soddisfazione di servizi che poi possono essere utilizzati ma anche come risvolto diciamo così dal punto di vista dell'organizzazione che le produce il concetto quindi è quello che rispetto ai dati che vengono poi utilizzati vengono portati bisogna avere un'idea del profilo atteso e dall'altra parte essere capaci di misurare come via via i nostri dati riescono ad avvicinarsi a quel profilo questo significa che molto spesso noi potremo anche essere diciamo così condotti a poter esporre dei dati come abbiamo visto anche nel caso dell'open stream che non hanno una qualità eccezionale però sono molto utili e via via andare a capire come migliorare la qualità di quei dati ma per fare ma per fare questo abbiamo bisogno di un concorso abbastanza organico di dei tre soggetti in particolare sicuramente i cittadini abbiamo visto come diciamo così la partecipazione può permettere l'evoluzione della qualità dei dati le imprese che nel momento in cui sono messe in condizione di utilizzarlo hanno la possibilità hanno la necessità di dare anche dei feedback da questo punto di vista e ovviamente le pubbliche amministrazioni che non possono vederlo come l'atto finale di messa in diciamo così sul web di alcuni dati ma lo devono vedere come uno spunto per migliorare i propri processi da questo punto di vista il feedback all'interno di una strutturazione di progetto open data diventa fondamentale perché il feedback su una volta definita la qualità dei dati il profilo di qualità dei dati che si espongono il feedback che viene dai cittadini che lo utilizzano dalle imprese permette di avere una retroazione che aiuta anche a capire via via nell'analisi quali sono i processi che devono essere modificati devono essere evoluti per permettere che quei dati siano della qualità attesa questo significa che mentre da un lato abbiamo bisogno di avere un coinvolgimento un engagement molto organizzato diciamo così da parte degli utenti e dei riutilizzatori che diventano quindi non soltanto utenti ma diventano attori protagonisti dall'altro lato abbiamo bisogno di un produttore di dati spesso sono le amministrazioni che ragionano in termini di trasformazione dei propri processi riorganizzazione dei propri processi e governo perché è logico che il progetto open data non è un progetto one shot è un progetto di evoluzione e quindi non non si arriva soltanto a pubblicare dei dati ma una volta che si è fatto una definizione dei dati che devono essere messi in condivisione perché sono sono utili sono riutilizzabili devono essere sempre più riutilizzabili c'è anche un altro cammino un percorso di evoluzione che è accompagnato dal miglioramento che viene fatto via via della qualità dei dati per fare per gestire però il feedback che viene dalla verifica degli utenti dell'utilizzo eccetera c'è bisogno anche di un governo dei processi all'interno dell'amministrazione per poter recepire correttamente questi feedback e trasformarli in miglioramenti e questo significa che il patrimonio di informazioni di valore di energia che può venire dall'intero ecosistema è enorme ma per essere utilizzato efficacemente c'è bisogno che l'amministrazione faccia un percorso serio di messa su di un vero e proprio governo dei processi noi sappiamo che le amministrazioni in gran parte lavorano ancora per competenze separate e noi sappiamo che invece stiamo parlando di interoperabilità di integrazione dove i vari settori contribuiscono tutti nel fornire un quadro completo non è possibile che l'organizzazione non abbia lo stesso modello di integrazione e di lavoro era quello che si diceva come è la rete che deve essere governata e deve essere governata soltanto per processi non ci sono altri altri modi e solo in questo modo si può fare si può avere il massimo vantaggio appunto dell'utilizzo l'ultima è appunto invitarvi già da adesso da adesso all'ultimo al prossimo evento che ci sarà il 22 febbraio 2014 che speriamo sia ancora più coinvolgente e più ampio di quello precedente dedicato giornata internazionale dedicata all'open data e che speriamo sia anche un passaggio importante in cui magari con la costituzione di questo istituto tra l'altro beneficiando anche il fatto che la fondazione Bruno Kessler è nodo italiano dell'open data institute e quindi che iniziano ad esserci anche delle realtà che iniziano a strutturarsi sempre di più questo possa essere un contributo a un percorso italiano diciamo più ampio possibile per creare questo ecosistema che manca e che invece ci serve proprio tanto grazie non abbiamo sforato ma non c'è comunque più tempo per commenti e invito le persone ancora presenti a catturare i relatori saranno disponibili per primi contatti voi tu si va bene voglio solo dire l'open data institute io sto in fbk siamo diventati nodo dell'open data institute uk e tra le cose che voglio aggiungere scuola di nello l'open data institute uk fatto da tim bernerslee penso che conoscete eccetera ha i certificati open data però si tratta semplicemente di andare per un questionario che sposta la responsabilità su chi fa il certificato e la cosa interessante di questi certificati è che danno una metodologia su come validare come pubblicare il dato su tutti quelli che sono gli aspetti che si porta dietro sull'aggiornamento sulla metodologia con cui è stato raccolto eccetera e secondo me è un punto molto potente per poter dare maggiore qualità a quello che si espone basta Sergio scusa no no non devi scusarti è un peccato ma è questo motivo per dire ci saranno sicuramente altre occasioni io ringrazio i relatori come Asita ringrazio stati generali dell'innovazione con il quale abbiamo organizzato questa sessione ma come prima occasione di collaborazione auspichiamo speriamo che oltre ad Asita ci sia la partecipazione il dialogo la collaborazione con altre associazioni ne cito qualcuna ma sicuramente ne dimentico altre GeForce piuttosto che Open Geodeta piuttosto che Assop vi ho dato l'annuncio del work e così via ce ne sono onestamente tante altre credo che stati generali dell'innovazione proprio perché focalizzata sulla l'inclusione la condivisione delle esperienze come avete visto sia l'ambiente giusto per contaminarsi per lavorare insieme ai progetti in cui abbiamo assistito oggi le presentazioni vi lancio con il suggerimento di bloccare se avete interesse a fare degli approfondimenti con i relatori qui presenti e augurandoci di incontrarci anche a breve in altre occasioni buon pomeriggio a tutti grazie a tutti grazie a tutti